ecco un esempio di intervento un intervento pietoso come vedete queste lastre di pietra bianca sono state aggiunte dopo uno spreco di soldi probabilmente in origine dovevano esserci solamente delle pietre come queste qua bianche con sopra dei sassi che cingevano il capitello un intervento veramente uno spreco di denaro non serve a nulla abbiamo detto che è stato fatto spesso sono stati spievi soldi per fare questo intervento qua mentre il capitello sta andando tranquillamente in malora ormai parte dell'intonaco sta per cadere e la fresco si legge a malapena questo capitello era stato restaurato nel 93 capitello di san paolo ma quanto pare è stato un intervento tutt'altro che risolutivo